Quello che ho al polso adesso è il futuro del marchio Crono Swiss. Questo è chiamato l'oracolo di Delphi, è un orologio realizzato per il 40esimo anniversario del marchio con una cassa in oro rosso 18 carati da 42 mm, 50 pezzi in edizione limitata ma quello che è speciale sono i dettagli dell'orologio. Abbiamo un'accoppiata di complicazioni, i minuti retrogradi assieme all'ora digitale saltante quindi indicata da questa cifra a ore 12, piccoli secondi al 6 e la cosa forse più sorprendente è il fatto che i due quadranti, le due parti di quadrante che vedete in blu sono realizzate con una lavorazione che si chiama guillage, che è questa lavorazione a macchina fatta però su una superficie a cupola e non piana come accade di solito che è un primato di Crono Swiss. Inoltre, sopra tutto questo, ci sono sette strati di smalto fatto a fuoco. L'orologio è peraltro dotato di un calibro molto bello automatico che sarà sicuramente parte del futuro di Crono Swiss e poi la cosa speciale è che anche se coprite il quadrante grazie a questi dettagli sulla lunetta e alla corona cipolla comunque riconoscerete il fatto che è Crono Swiss per cui adesso sta a voi farmi sapere se vi piace l'orologio se conoscevate e apprezzate il marchio e ci vediamo in un prossimo video perché secondo me orologi come questo sono davvero speciali e mi fa piacere mostrarli.